Ciao ragazzi, buongiorno, sono Brigida Maugeri, sono di Catania e sono vegan da 8 anni circa. La mia scelta è stata una scelta etica per prima cosa e poi salutistica. Ho cambiato tante volte l'alimentazione, cercando di inserire più o meno carboidrati e più o meno frutta, ma credo di aver trovato un equilibrio. Sono felice di far parte della vostra famiglia, sarà un'esperienza che sicuramente mi accrescerà. Quest'anno con l'aiuto di Alberto sto cercando di partecipare a delle gare non natural, delle gare molto difficili, dove ci saranno tante ragazze preparatissime, non vegane e sicuramente anche dopate. Quindi per me sarà un'esperienza difficile, ma sicuramente è un'esperienza. L'anno scorso ho partecipato ad un'altra gara, ad un'altra competizione, mi sono classificata abbastanza bene. Prima, seconda al mondiale, però vorrei fare qualcosa di più e vorrei partecipare a questa competizione dove è tutto molto più difficile. Vediamo, grazie all'aiuto di Alberto, come andrà. Non mi sento prontissima perché ho fatto degli sbagli in alimentazione in questo periodo, ho introdotto molta frutta al posto dei cereali a pranzo per non avere il tempo di cucinare, dato che sono molto impegnata tutto il giorno al lavoro e non è andata bene. Quindi mi trovo a recuperare tutto in 20 giorni. Vedremo come andrà. Alberto è molto bravo, quindi confido nella sua dieta e nella sua scheda. Che dire, grazie ragazzi, felice di far parte del vostro gruppo, sarà una bella esperienza e sicuramente una grande famiglia. Ciao!